Oh, salve ragazzi, qui è del 38, come va che si dice? Allora, allora, siamo qui da soli, sì perché Halloween ormai è passato, sono a un video un po' più prima dell'evento che ho fatto con il mio amico Dictator Vi volevo far vedere in maniera più accurata, a parte il test, lo scherzo, analizziamo bene le cose che non ve l'ho detto Allora, lo scherzo in realtà che vediamo, sono tutte le osse che si possono trovare nel gioco, ovviamente distaccati pezzo per pezzo E vi volevo far notare tutti gli aster egg che ci sono state citazioni a tema Halloween, perché non so se poi li toglieranno questi aster egg Vabbè, qua, queste qua sono impronte che ci servono, sia queste i graffi, sia questi rappresenteranno le nuove tipologie di impronte Come anche i piedi, vedete? Questa era la news della patch, che hanno fatto questa cosa simpatica Ah, intanto ha aperto qua, quindi mo' ci sarà il jumpscare Eccosi, grazie Help me è più o meno help me è Allora, qui non mi credo se c'era qualcos'altro come... Non l'avevamo visto È inquietante, non l'avevo visto Ma è il bambino Sì, è il bambino, solo che l'hanno fatto nero e gli hanno messo gli occhi, ma in realtà tutta la po' Madonna che ansia Vabbè, poi abbiamo la zucca di Halloween là fuori Madonna, non l'avevo visto Frate, sei inquietante Allora Oltre a questo, giocatore singolo Seleziona Ecco qua, noi dobbiamo andare qua Difficoltà dilettante, sì perché Meglio così Aggiungiamo robe Mo', vediamo di fare pure la missione e l'evento Però voglio anche girare intorno per la mappa Perché in realtà ho scoperto le location Di Slenderman Di Slenderman Di Slenderman e l'altra citazione, quella là della maschera di Jason E ve la voglio far vedere Oltre a tutto, vediamo se riusciamo anche a sgammare l'entità In tutto ciò Però l'entità ho fatto dilettante Non perché faccio schifo a giocare Anche se mette più ansia adesso l'entità che appare e tutto il resto Perché, oh, a livello intermedio rompe scatole Io non mi trovo neanche a livello intermedio ancora Devo obituarmi, ci figuratevi Però Questo video voglio farvi vedere Gli aster egg prima che Sappiate Prima che lo tolgono l'evento di Halloween Ci sono rimasto perplesso Perché può succedere che Li tolgono gli aster egg, capito? Quindi prima che tolgono con la patch ignorante Preferisco farveli vedere E vi dico pure le location Magari Anche se toglieranno l'evento di Halloween Magari ci sanno gli aster egg Però non si sa mai Per esempio in Costanter Corpse Ci sta il teschio di Alien Quindi una cosa figa Il fatto che hanno potuto fare queste cose Perché hanno chiesto qualche diritto E qualcosa hanno chiesto qualcosa Anche per una maschera Un riflesso ci sta Sta piovendo Ma dai che sfiga Vabbè Questo ci otteniamo Ci portiamo questo La torcia Ci serve E questo Bene Noi gireremo intorno Intanto FM Vabbè Paranormale Ok Vediamo un po' Allora Uno dei primi È là Solo che Non c'è Vedete Bene Apriamo Mamma mia Ok A posto Non so neanche dove è il generatore Quindi tutto a posto Andiamo per di qua Tanto abbiamo 10 minuti di vantaggio Prima che l'entita si Si mostri Vabbè Il temporale Allora Il secondo Sta qui Però prima di andare Mi interessa andare là Verso Il lago Perché c'è l'aster egg Proprio nel lago Ah E se stiamo in silenzio Si sente anche un urlo Guarda il bollicino Ora vedete Gesù Bellissimo Bellissimo Ragazzi Bene Abbiamo scoperto L'altro L'aster egg Non so se fare la foto Porterebbe a fare qualcosa Se rimane ancora la Io posso fare la foto Se non erro Qui invece Dovebbe starci Un'altra posizione Di slenderman Eh se me la ricordo Se me la ricordo Non la vedo Non è qui Ok forse Si è libero Non riesco a trovare la location Vabbè ci sta un'altra Intanto Intanto vediamo se può fare rumore L'entità L'altra sta qua L'altra è qui E non c'è Ci speravamo Di vederlo subito L'entità Di vederlo nascosto Slenderman Sì perché io sto guardando così Però in realtà Si dovrebbe vedere No Non c'è Peccato L'avremmo voluto sgamare Non è che ho Mi so confuso Io la location Oh Che cos'è che mi sta bloccando Ah è tutto questo qualcosa Il tronco Ok Errore mio Non è che sta partendo Ah forse stava qui Mi sono confuso No Ok Non c'è Sto guardando Tutte le posizioni Uno Due Tre Ve l'ho fatto vedere Il quarto Sta là C'è un quinto Ultimo E mo c'è Torniamo perché sicuramente Non voglio rischiare di morire male Ma l'ultimo E' qui Da queste parti qua Non qua Aspè ho sbagliato Ramo Zona E' qui Qui nascosto Si dovrebbe entrare qua E sgamarlo Tra gli alberi Vabbè Ritorniamo nato Intanto raga Che dobbiamo Mamma mia Che anzi Che c'è qua Intanto ho capito Il generatore Che non l'ho manco visto Ok Ax96 Mamma che tristezza Ah il generatore Stava là Ok Faccio così Togliamo La videocamera Abbiamo anche questo Si si Mostro A sto punto Facciamo le cose serie Andiamo Accendo il generatore Che sta qua Ah era già acceso Lol Ah Ah boh Tre 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 Sì 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 Ho visto un tre Un tre Un tre Due Quattro La può essere Vuoi vedere se riesco a fare Una foto alla maschera Di James E mi da qualcosa No immagina se parlasse Chi disse Ok Pare so' cretino Perché mi sono scordato Una cosa Qua dobbiamo aprirlo Oh Aspetta Aspetta Ma l'ho aperto io Si Mi ha fatto molto rumore Ma non credo che sta lì No Vedete Oh Vedete Sette Due Lei in fondo Comunque Slender Me l'ha nascosto Da queste parti qua Questo maledetto So che non lo vedrò mai Mi ha dato un sette virgola due Potete Vedi quattro Per i pari morini Però mi ha dato un sette brutto brutto Può essere qui In casa Ragà in casa Dove sei? Dove sei? Dove sei? Sei qui? Dove sei? Sei qui? Non c'è una torcia qui C'è una torcia qui C'è una torcia in tempo Sei qui? No Dove sei? ữ c'è una torcia consa Se qui? Non c'è Niù? Non c'è una toracia in tempo Dove sei? Dove sei? No Non c'è una torcia in tempo allora andiamo a fare le cose serie sono un secondo ragazzi ah vedi ha fatto cadere qualcosa no non me lo fa fare facciamo in casa per sicurezza si perché io volevo trovare la masca intanto l'abbiamo sgamata volevo fare la foto però volevo portarmi dietro comunque i rumori me li fa qua me li fa ora vediamo se comunque stanno lì secondo me va bene sì perché io voglio far vedere Slenderman raga Slenderman è nascosta da qualche parte lì da qualche parte qui poi il problema è che piove raga il problema è quello Slenderman si riconosce perché ha una faccia bianca del cavolo no non c'è ero sicuro ci speravo vabbè gioca con quelle luci già è qualcosa vuol dire che sta in zona va a giocare con queste luci le ha pure abbassate drasticamente sì madonna quanto è bruttissimo no vediamo se vabbè sto a 70 dai vabbè mi faccio la cosa sì ragazzi sto girando intorno perché in realtà volevo fare le cose di easter egg in realtà lo sapete fm lo dovrei fare però io voglio prima sgammarlo beh non è in casa quindi posso spostare quel sensore di movimento 2 2,2 me lo sta indicando a questa parte vedete considerate che è tranquillo perché ho messo appunto il 3 2 sì voglio essere sicuro no guarda lei non sta sopra non sta in casa sta da quella parte là in fondo ok ho capito allora la parabola me l'ha detto giusto c'è ancora qua maschera di cesso solo per curiosità che cosa mi può scaturire no comunque sta verso l'ingresso e il corridoio c'è il corridoio sta praticamente qui verso l'ingresso sì vedete 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 5 probabile in bagno raga probabile in bagno quindi che cosa significa adesso solo con questo ve l'ho detto io mo ti frega tiè andiamo ha spento la luce ha spento muo è apparso proprio ve l'ho detto io era lì l'ho sgamato però per sicurezza non voglio trollare sta da questa parte qua quindi può essere in bagno perfetto l'ho sgamato andiamo andiamo vediamo per curiosità foto niente sarebbe stato bello comunque vabbè pazienza sarebbe stato bello come asterix bene facciamo i seri quindi andiamo con uno due è andato a spegne il generatore sicuramente no non ha spento il generatore ha spento solo la luce ok vaffanculo maledetto scusate la parolaccia ma mi ha mi ha attaccato alle spalle non l'ho visto dove era maledetto non l'ho visto pensavo che era davanti mannaggia sono girato per sgamarlo guarda mi è apparso là guarda lì momma si è senza di movimento eh si si con la squadra bastardo allora sta lì comunque central park mo me lo dà il minimo è maledetto ah fecchimo te postino allora andiamo con questo andiamo con l'altro sensore oh una torta mi è spenta la luce ma allora lo fai apposto ti dà fastidio la luce eh maledetto te lo butto qua tanto so che stai qua maledetto mi ha avuto fare le jumpscare alle spalle perché alle spalle ti attaccano lo paiono alle spalle sta lì comunque mo però andiamo di videocamera uno uno a tutto senso di movimento vediamo di sgamare la orb orb lo sgamato raga è proprio all'ingresso guardate è proprio all'ingresso guardate quindi fa orb sta là ve l'ho detto subito la orb ecco allora guardate quanto è piccola fine fine perfetto ho schiamato anche la orb a temperatura e porto pure la macchina fotografica ecco tu zero sta fuori davanti a me così a cazzo vabbè vediamo se parlo dove sei ok sei una ragazza va bene sei là ok ok mamma mia una ragazzina una ragazzina behind you eh con calma sta bu ti ho buttato il libro là devo fare l'fm però andiamo con ordine ora facciamo quello che dobbiamo fare pro togliamo questo ancora bo scusatemi split box sfere di luce un mare e uno yukai ok e se non sbaglio lo yukai e il mare non mi ricordo però vediamo il fantasma il mare cosa ha bisogno libero perfetto e lo yukai se non sbaglio il yukai serviva il dot appunto come ti chiamo ma io ragazzina vorrei farti anche la foto quindi aspetta che prendo una macchina fotografica così vediamo se interagisce anche se credo che tu fai il dot su cara mia perché là mi è apparso mi è affiatato là vicino può anche scrivere va bene intanto andiamo con tanta ignoranza ragazzi come ti chiami Mary Moore mostrati Mary Moore dove sei Mary Moore dacci un segno Mary Moore Dots bene Mary Moore dove sei no aspetta intanto prove Dots ed è la ragazza con pigiama se lo potete sapere come lo so la riconosco a memoria visivamente anche senza la cosa qui guardate perché cammina e poi inizia a camminare ecco visto la ragazza con pigia io la odio la ragazza con pigia vabbè ci ha sfiatato prima Mary Moore mostrati Mary Moore Mary Moore dove sei dacci un segno dacci un segno eh ho capito però voglio che dacci un segno eh eh dove non lo so da qualche parte dacci un segno dacci un segno eh are where war Mary dove sei Mary ma poi come faccio a fare la foto se puoi Mary mostrati è una disgraziata comunque abbiamo sgamato che è un man quanto ha sanità 77 sì perché questo c'è un'entità del cavolo che attacca il 70% eccola là vedi dov'era ok cerchiamo di fare questa foto Mary Mary non mi passare davanti qua Mary dacci un segno eh Mary dove sei Mary non la vedo madonna non l'ho vista vabbè ah perché è trasparente è vero certe entità diventano trasparenti ok dimmi che ho fatto la foto perché io non lo so ok ho fatto ho fatto tutto quasi fotografia fantasma va bene interazione fantasma va benissimo è andata so che devo fare la cosa della candela quindi che mi Ah cavolo ma sta a piovere Non la posso fare Mamma mia è vero non la posso fare Vabbè sta a piovere sono scemo Vabbè è andata Era una cacchio di Ok era una Fantasma finale Prove erano yokai Ok Bene fatto Fatta la missione Andata sto contento 70 Oh mi mette ansia anche con la normale Gameplay eh Sei tu che metti ansia maledetto Sei un bastardo Madonna io non ti avevo notato proprio Vabbè Ecco Ti potevi farti vedere maledetto Ti potevi far vedere prima Vabbè abbiamo pure la musica Ok la smetto Bene ragazzi io qua vi saluto Qui del 38 è durato Giusto Quella doveva dura Vi ho fatto vedere la maschera di Jason Vi ho fatto delle posizioni di Di Slenderman Ma non l'ho trovato Qui del 28 Al prossimo video Passo e chiudo Bella ragazzi